Musica Ciao a tutti ragazzi io sono Vales e oggi finalmente siamo su FIFA 17 e qui con noi c'è La persona più utile del mondo salva a tutti ragazzi Ecco e siamo finalmente su FIFA 17 e me l'avete chiesto tipo e ce l'avete chiesto tipo Alla preistoria finalmente siamo su FIFA 17 ragazzi che ce l'ho chiedevato già dalla preistoria Appena ho fatto l'annuncio che già me lo chiedevato a poco Comunque ragazzi vi volevo dire prima che iniziamo la partita che non potrò, se mi sentite piano è perché non potrò molto alzare la voce Dato che da me stanno dormendo E appunto comunque siamo con il Borussia Dortmund abbiamo iniziato una stagione co-op Io e Jarcus siamo con il Borussia Dortmund Ora andremo a fare una partita online nel frattempo faccio caricare e nel frattempo ora taglio Ci rivediamo all'inizio della partita Ragazzi siamo ritornati Siamo Borussia Dortmund Contro Borussia Dortmund Ma che cazzo Borussia Dortmund Contro Borussia Dortmund La prima partita bellissima Ci avvertiamo Ci avvertiamo Ci scontriamo contro noi stessi Perfetto Perfetto Ci scontriamo contro noi stessi Va bene Guardami guardami Allora dai Vai tua Sono qua Sono qua Destra Oh dai Tirelo Tirelo No però le caramelle Perché hai fatto Hai fatto un passaggio Sì infatti Io ancora devo imparare a giocare Con sto cazzo di gioco Perché su FIFA 15 o meno qualcosa Su FIFA 16 ancora qualcosina riuscivo a farlo Sì perché FIFA 17 è completamente cambiato Rispetto a FIFA 16 Soprattutto Soprattutto Sono cambiati i tiri Soprattutto La maggior parte Quasi tutti I cambiamenti sono i tiri Sì 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 Non riesco a giocare Io perché non riesco a tirare Dai 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 Vai Eh non posso Vai 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 sarò qua Sono qua Oh buona 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 Rilatino Rilatino No Non ci sono ricevuto Vai No Perché l'ho fatto Potevo crossare Sono ancora abituato al manchester Perché ma mi spinge Qua 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 Crossala Ci sei ci sei Oh che cazzo hai fatto Che cosa ho fatto Mezza rovesciata Vai No Nostra ancora vai vai No Perché Vabbè Vabbè Poteva riuscire Poteva riuscire Poteva riuscire Però dai In chiesa Non so per questo dai 100mila like No 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 Ok Attimo Ci siamo salvati Ci siamo salvati Ci siamo salvati Che cosa ho fatto Che cosa ho fatto Mi sono condannato alla perdita Ci ho condannato Ok Oddio Di merda Che cosa è successo Che culo Che culo Che culo Che culo Di merda Che culo Che culo Di merda Non sono bravi Ho messo a cagavo Ho messo a cagavo Che non è niente male Comunque Penso che venissi da A sinistra Lasciamo intendere qualcosa Di pericoloso Vai Qua 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 Eh Troppo verso il quartiere Perdono Cosa Cioè se questo qua Alla prima occasione Disegniamo bestemmia Di brutto Vai Subito Subito Questo qua Bestemmia di brutto Se insegniamo la prima occasione Lo sai vero Lo so Apri il gioco Vai Tu niente da fare No Non ci credo No Non parlo così Eh lo so Scusa Vai 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 Qualcetto No Ma c'è C'è il vantaggio È ricorda È calcio È calcio Guarda E guarda In linea Totalmente in linea Che gol Che gol Che gol Che gol Che gol Mamma mia Che forza Che metto nei tiri Ma Ma Ho paura di mettere Ho paura di mettere Ho paura di mettere troppo forte Allora io non metterò No Pensavo andassi avanti Ma Hai paura di mettere troppo forza Quindi non ne hai messo Trante il bro Che è caldo Che è caldo E' caldo E' caldo E' caldo Dango Ok E' Qua sono Ok Dai Che tuo Qua No Ok Va bene Va bene Va bene Vabbè Vabbè Subito Passa Non ho passato Grazie No non lo hai passata E volevi E volevi E volevi E volevi E volevi E Ecco Il punto di arbitra Oh Oh Chi dai Dai sono 100 Sono 100 Chi dai Oh Che gol Arriva Arriva Bello serio Adavante Guarda Tutti i tifosi Sono nostri Chissà come mai Ok L'allenatore Ma l'allenatore Ci sono tutti e due Uguali Il problema è questo Appunto Vabbè Dario Almeno E All'interno Si è messo Fermo Almeno Dai E' riuscita Almeno Una partita Abbiamo fatto Un gol serio Il novantesimo Tipo Va bene Facciamo Facciamo Un'altra partita Ok ragazzi Siamo ritornati Stavolta Siamo col Bayern Perché in pratica Col Borussia Dormund Non trovava partita Perché dice Che ha detto Prova con un club Con Numere di stelle Più alti O più bassi Quindi Quindi ho dovuto Cambiare club Per forza Ma va bene Siamo col Bayern Monaco Eh già Quello lì è in attacco Che è proprio feroce Vai qua Questo qua è molto Questo qua è molto feroce Mi ho capito Che questo qua è molto feroce Però c'è un varco E qua Vai Vai al centro Qua 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 Subito 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 Eh vabbè Vai Qua al centro Ok vabbè Cambi gioco Nooo Non ci sono riuscito A prenderlo Tranquillo Io sbaglio Allungo troppo Faccio troppo Il cretino E poi La prendo Ah cavolo Ecco Non riesco a fare Passaggi abbastanza precisi Eh non so Tirare Non so fare un cazzo Minchia Che gollo Che ci ha fatto Bello Bello No avevamo detto Che questa era forte Tu Ok 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 Vai Vai No L'ho vista dentro L'ho vista dentro Sono l'unico Che l'ho vista dentro Io si tantissimo Non puoi capire Io tantissimo Comunque stiamo partendo da zero Non è che stiamo partendo molto Che si può recuperare Ancora si può recuperare Ancora si può recuperare Ci siamo Non è che si può recuperare Noi recuperiamo Un punto Si è più ottimista Ok non lo essere più No No Non lo essere più Non siamo più ottimisti Perfetto Ma splendido Mi sono carrette che ti fa Che gli faccio Perfetto Perfetto E' l'angolo Calcolato Dai Tutti i sensi Impossibile Da prendere Ma perché mi straggia Stornate Mi chiedi a zoppo Tutti i giocatori Adesso Ti giuro Gli a zoppo Tutti Vai Subito Mancano ancora Venti minuti Al termine della gara Dai tiralo 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 No Ma cosa Non sono riuscito a tirare Minchia Mi ha levato la palla C'ho provato Mi schia Anzi l'unico tiro buono Che ho fatto fino ad ora A parte quello Della scorsa partita Cioè tipo Il secondo tiro buono Fermate Ferma Iii Minchia tiro Perché la fai in continuazione Così corta Io lo odio Questo qua lo odio Mi fa schifo Sì ma perché la fai in continuazione Così corta tu Non la fai lunga mai Ah E' morto E' morto Soprattutto con questi errori Cioè questo qui ci sta fracassando Dai subito Non è un gol È riuscito La piccola soddisfazione Le piccola soddisfazioni Non totale di senore Non totale di senore Minchia Oh deve riuscire a umiliarci Questo proprio Ci vuole umiliare Che cazzo fa Che cazzo fa Neuer Che cazzo fa Neuer Scricione no Non deve fare ste cose Qua 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 Non così Non così Vai No No Non era un tiro È finita Dai almeno 3 a 1 Va bene va bene va bene va bene Ho fatto un gol Ho fatto un gol che mi va bene dai Meglio che niente dai Meglio che niente L'ho fatto il bel gol Io ci sono riuscito a farlo Nello scorso episodio Sì nello scorso episodio Nella stessa partita Ho fatto schifo Ho fatto schifo Però No vabbè però Almeno una partita L'abbiamo vinta Una partita L'abbiamo persa Va bene va bene dai Va bene ci sta Ci sta Aspetta che devo fare a nulla Perché sono questo Continua a cercare altre Partite Comunque ragazzi Per noi è tutto Che terminava Mi volevo anche dire Che per esempio Io non è che È un gioco tanto Ma io sono più Stile code Va FIFA ci gioco poco Infatti Diciamo che è da quest'anno Che ci sto ricominciando Il gioco